Spendiamo adesso qualche minuto per ripassare come si trasforma una frase in forma attiva in una frase in forma passiva e viceversa. Se hai capito bene i complementi che abbiamo ripassato finora, vedrai che non è difficile. Si tratta come al solito semplicemente di prestare attenzione. Partiamo da questa frase, le stelle rischiarano la notte e facciamo la nostra analisi. Individuiamo immediatamente il predicato che è rischiarano, predicato verbale. Ci poniamo la domanda perché abbiamo riconosciuto un verbo in forma attiva. Chi compie l'azione di rischiarare? Risposta le stelle e sarà il nostro soggetto. Le stelle rischiarano che cosa? La notte, complemento oggetto. Bene, come facciamo a trasformare questa frase di forma attiva in una frase di forma passiva? Bisogna cambiare il soggetto e il complemento oggetto, cioè il complemento oggetto della frase attiva diventerà il soggetto della frase passiva. Quindi noi prenderemo la notte e la facciamo diventare il soggetto della frase passiva. La notte adesso subisce l'azione di essere rischiarata. Allora, scriviamo semplicemente essere rischiarata. Lo teniamo un attimo qua in sospeso, questo verbo. Bene, abbiamo detto che nella frase passiva c'è qualcuno che comunque agisce. Chi diventa complemento d'agente? Il soggetto. Quindi le nostre stelle diventano il complemento d'agente, in questo caso causa efficiente perché le stelle non sono esseri animati. Sappiamo però che il complemento di causa efficiente è introdotto dalla preposizione da, quindi le stelle dovrà diventare dalle stelle. Benissimo, quindi il soggetto della frase attiva diventa il complemento d'agente o di causa efficiente. Il complemento del soggetto della frase attiva diventa il soggetto. Adesso però dobbiamo sistemare il predicato. La notte essere rischiarata dalle stelle. Come facciamo a sapere qual è il modo e il tempo giusto in cui mettere il nostro verbo? Perché spesso andando a intuito, andando a orecchio, si commettono degli errori, che sono comunque degli errori. Cioè non basta trasformare il verbo da attivo in passivo, lo devo anche trasformare nel modo giusto, altrimenti commetto un errore. Come faccio? Rischiarano è indicativo presente. Il mio verbo passivo deve essere all'indicativo presente. Io non posso cambiare né il modo né il tempo. Come faccio? Prendo il verbo essere e lo metto presente. Quindi in questo caso scriverò è. Indicativo presente del verbo essere è. Il verbo rischiarare, perché attenzione stiamo parlando di rischiarano, quindi voce del verbo rischiarare, lo metto semplicemente al participio passato. Rischiarata. Quindi la mia frase diventerà la notte è rischiarata dalle stelle. Ricapitolando. Passando dalla forma attiva alla forma passiva. Il complemento oggetto della forma attiva diventa il soggetto. Il soggetto della forma attiva diventa il complemento d'agente o di causa efficiente. Dopodiché io devo stare bene attenta al mio predicato e devo trasformarlo mantenendo però modo e tempo della frase attiva. Quindi io agirò sul verbo essere e poi aggiungerò semplicemente il participio passato del mio predicato. Facciamo un altro esempio. Il preside rimproverò l'alunno. Proviamo ad applicare quello scambio che abbiamo visto prima. Sappiamo che il preside è il soggetto, rimproverò è il nostro predicato verbale e l'alunno è il complemento oggetto. Abbiamo detto che dobbiamo scambiare i posti. Quindi il complemento oggetto sappiamo che diventa il soggetto. Quindi partiremo con l'alunno. Sappiamo che il soggetto diventa in questo caso il complemento d'agente perché abbiamo una persona e quindi scriverò dal preside perché è ovvio che cambiando la funzione cambiano anche le preposizioni. Adesso devo sistemare il verbo. Rimproverò è un indicativo passato remoto. Allora io so che devo prendere il verbo essere e metterlo all'indicativo passato remoto. L'indicativo passato remoto del verbo essere è fu. Dopodiché non faccio altro che prendere il verbo rimproverare e metterci il participio passato. L'alunno fu rimproverato dal preside e io so di avere fatto tutto giusto perché il soggetto è diventato il mio complemento d'agente nella frase passiva, il complemento oggetto è diventato il mio soggetto e il verbo l'ho coniugato esattamente come deve essere coniugato. Ovviamente la stessa regola vale al contrario. Prendiamo una frase passiva. Il giocatore era incitato dai tifosi. Era incitato, predicato verbale, passivo. Allora mi devo chiedere chi subisce l'azione di essere incitato? Risposta il giocatore che quindi è il soggetto della frase. Chi è che agisce? Il giocatore era incitato da chi? Dai tifosi che diventa il mio complemento d'agente. Sono loro che agiscono. Il soggetto subisce la loro azione. Bene, questa è una forma passiva. Adesso la devo trasformare in attiva. Non faccio altro che applicare la regola che abbiamo visto prima al contrario. Quindi il mio complemento d'agente diventerà il soggetto. E allora io tolgo la preposizione articolata e scrivo semplicemente tifosi. So che il mio soggetto della frase passiva, che cos'era nella frase attiva? Il complemento oggetto. E allora lo metterò qui e scriverò il giocatore. Adesso devo sistemare il verbo. Anche qui non faccio altro che applicare il contrario di quello che ho imparato. Era incitato. Vado a vedere il verbo essere. Perché questo sappiamo già che è il participio passato, no? Lo sappiamo già. Participio passato. Devo andare a vedere il verbo essere. Che cos'è era? Era è un indicativo imperfetto. Allora, come sarà il mio verbo nella frase attiva? Sarà un indicativo imperfetto. Sarà l'indicativo imperfetto dal verbo incitare. E allora scriverò i tifosi incitavano il giocatore. E io non sbaglio più. Non sbaglio più perché dopo aver scambiato i complementi concentrerò la mia attenzione sul verbo essere. Nella passaggio dalla frase attiva alla frase passiva. Io concentro l'attenzione sul verbo essere nel senso che il verbo essere deve rispondere alle caratteristiche del verbo attivo. Se invece ho già una frase passiva, il verbo essere è quello che mi dà le caratteristiche del mio predicato. Una volta che ho imparato questo, riuscirò ad analizzare e a trasformare le frasi senza commettere errori.